oh collega e basta farsi verbale ma lo so scucciar troppo due colleghi vanno a fare un blitz a un certo punto uno dice all'altro ehi ehi stai attento a quel cemento e l'alfa scusa perché perché potrebbe essere armato ma io questa già la so c'è mia moglie mi racconta una al giorno si lo so tua moglie bravissima anzi proprio ieri me ne ha raccontato un'altra tua moglie si guarda mamma ha raccontato una parzelletta bellissima fortissima penso che ci siamo fatti un sacco delle salte tanto ci siamo messi a ridire io e tua moglie che in un certo punto siamo caduti giù dal letto come giocatore eh come giocatore nooo no volevo dire che io mo mi sono ricordato che sono di fatto uno col col non vengo